RFI potrebbe non attendere la sentenza di merito del Tar di Catania sull'avvertenza relativa alla chiusura del passaggio a livello di via Cordovena a Capodorlando e giovedì prossimo, 2 luglio, potrebbe alzare le barriere di cemento che di fatto chiudono in due la strada, mettono in sicurezza la barriera e chiudono un braccio di ferro che si trascina da anni. L'annuncio che giovedì prossimo potrebbero svolgersi i lavori è giunto davanti alla terza sezione del Tar di Catania nel corso della discussione nel merito sul ricorso che contrappone Comune di Capodorlando e Ferrovie. Le ferrovie infatti non sembrano disposte ad attendere il pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale, anche se la sentenza potrebbe arrivare a fine luglio, e intendono far valere la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo che un anno fa aveva accolto il ricorso delle ferrovie annullando un primo pronunciamento del Tar di Catania che dava ragione al Comune. Insomma, un rimbaltamento delle decisioni rispetto all'ordinanza sindacale con la quale il Comune aveva bloccato la soppressione del passaggio a livello. Il Tar ha acquisito gli atti della protezione civile con i quali si dice chiaramente che le strade alternative alla via Cordovena, in attesa dei sottopassaggi che il Comune intende realizzare, non sono in grado di garantire il transito dei mezzi di emergenza in caso di calamità naturale. Tesi che ha portato avanti l'avvocato Laura Trifilò che assiste lente. A questo punto quindi c'è il rischio che le ferrovie alzino davvero il muro per la chiusura della strada senza attendere cosa avrà da dire il Tar tra un mese. Sempre che nel frattempo il sindaco Sindoni non emetta una nuova ordinanza per assicurare la transitabilità della strada per motivi di sicurezza. Grazie a tutti.